buongiorno a tutti e ben ritrovati su dark vanities finalmente è giunto il momento di fare un video come si deve nella risoluzione 16 9 e quindi orizzontale quindi siamo messi abbastanza bene voi che ne pensate della nuova uscita di penitra in full city of angels che avverrà domenica 26 aprile 2020 finalmente ci siamo il tanto agognato spin off della serie tv originale amatissima penny dreadful penny dreadful finalmente alle porte buongiorno a tutti e ben ritrovati su dark vanities buon martedì a tutti e finalmente siamo arrivati alle porte per la venuta della nuova serie tv penitra in full city of angels la spinoff della serie originale penny dreadful anche se onestamente non riesco a vedere cose comuni in comune da associare tra questi due filoni narrativi ma io sono qui matteo camarda e questo è il mio marco ma io sono qui e d'arco maiti's sigla sì ciao 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 fatemi sapere un pochino nei commenti cosa pensate riguardo a questa sede tv qui siamo ancora in quarantena e finalmente siamo arrivati a fare un video in sede cinoni ovvero un video in orizzontale come si deve purtroppo non ho abbastanza tempo da dedicarvi perché sono tutto preso dai racconti, dai romanzi che devo finire per gli editori altrimenti sarei qui a parlare con voi ore e ore ma purtroppo devo scappare e non dire prima di tutto devo coozionare, fare colazione è sempre un piacere stare con voi, volevo che lo sapeste e se non siete ancora iscritti al canale qui sotto trovate il link per iscrivervi fate un altro giro sul nostro sito web se volete scaricate l'app per restare sempre aggiornati con noi ma soprattutto fatemi un pochino sapere cosa pensate della poesia il silenzio della cucatrice che avevo composto tre anni fa che è stata letta da Claudio Trapanese un attore di teatro mio amico ormai qui la temperatura è sempre calata qui a Como siamo in Lombardia e purtroppo non c'è più niente da dire perché è tornato un pochino l'inverno è passato il primo mese di primavera buttato nel cestino era un po' questo che dà il titolo al video e sono un pochino amareggiata da questa cosa ma ma dopo tutto io mi concentro sui miei obiettivi e quindi non ho abbastanza motivazioni per spingere il mio sguardo un pochino più in là perché sono tutto preso dei romanzi dei racconti come vi ho detto purtroppo la nostra l'energia necessaria adesso per instaurare un contatto un contatto mentale con voi e arrivare a condurre un video intero lunghissimo o una live addirittura ma adesso devo fare colazione e quindi ci salvo e quindi ci salvo ci salvo Grazie a tutti